Ciao a tutti, oggi siamo ritornati in un nuovo video e volevo parlarvi che visto che in questi giorni non vi portavo più video e vlog a casa, non avevo la linea, quindi oggi ho fatto questo video per dirvi perché non facevo più video. Però in questi giorni vi porterò dei video anche su dei giochi e vi porterò anche il video dell'ultima festa a mare, il mio Lido, faranno una festa che chiuderà. Ci sarà il palco, la musica, chiuderà di sera e metteranno i fuochi, farò il vlog ovviamente. E vabbè, vi dovete consigliare, sì, io ho l'Xbox, vi dovete consigliare, sì, dovrò fare video su questo, volve style, oppure... Cavolo, chissà, se lo riesco... Un attimo... Aspettate... Oh, vabbè, Battlefield 3... Ho finito già da tantissimo... Volevo dire su... Ecco, Ghost Recon... O Ghost Recon... Non so se il suo residente io lo sei, perché il mio amico me lo dovrà dare, se ci devo, cioè se ci devo farci un video, no? Quindi, volevo dire... Un'altra cosa, se non mi sono dimenticato... Ah! Faccio l'overboard... Yeah! Già da tanto tempo, però... Vabbè... Qualche... Nel... Qualche intro vi farò vedere... Che inizierò con... L'overboard... Cioè, faccio... Salve a tutti ragazzi, vedete i miei cazzo di piedi... Anzi, mi faccio un doppio... Faccio un bel giro... Allora... Yeah, raga... Che bella cosa... Sono sull'overboard... Beh, raga... Ehm... Ehm... Ci risentiamo... Ehm... Ci rivedremo in un nuovo video... Va bene, scrivete negli iscritti se dovrò giocare al... O Ghost Recon... A Wolf Stun... Iscrivetemelo nei commenti... E... Ciao a tutti chi è qui!